Domenica prossima si terrà a Miglianico la terza edizione del Motor Show, Tommaso Palmitesta della Proloco di Miglianico, organizzatore di questa manifestazione. Che cosa accadrà domenica? Domenica sarà una splendida giornata dedicata ai motori dove noi faremo una manifestazione, un'esibizione motoristica patrocinata dalla WISP, della quale siamo polisportiva già da diverso tempo e con la quale organizziamo diversi eventi sportivi. La WISP quindi è il terzo anno che organizza nella città di Miglianico questa manifestazione motoristica dove ci saranno kart, auto, minimoto e sarà uno splendido giorno dedicato tutto ai motori. Vogliamo spiegare che non sarà una gara competitiva? Assolutamente no perché come la WISP ci insegna lo sport è per tutti e per tutti deve essere anche la possibilità di divertirsi con lo sport. Ci sarà questo Motor Show, ci saranno varie prove che vedranno impegnati i concorrenti? Assolutamente sì, ci saranno delle prove di abilità, ci saranno delle prove di attitudine alla guida, tutto sotto l'occhio vigile di un commissario WISP e di altri ragazzi preparati proprio alla sicurezza di questa manifestazione. Come è nata l'idea di organizzare questo Motor Show a Miglianico? Mi fa sorridere perché questa Motor Show è nata dall'idea di due membri della Proloco che avevano la passione sfrenata per i motori, ma perché non organizziamo una gara di calcio? La gara forse è un po' troppo, però giocare con i motori non è stata una cattiva idea, quindi giusto onore e merito va a Domenico Monaco. Lo scorso anno 50 partecipanti, contate anche quest'anno di ripetere gli stessi numeri? Noi speriamo di sì, anche se ci sono delle concomitanze purtroppo inevitabili, però dobbiamo dire che c'è stata un'apertura anche fuori regione e ci sono delle grandi disponibilità anche dalle Marche e dalle Puglie.